Capitolo 1 Una festa inattisa In un buco nella terra viveva uno hobbit. Non era un buco brutto, sudicio e umido, pieno di vermi e intriso di puzza. E nemmeno un buco spoglio, arido e secco, senza niente su cui sedersi né da mangiare. Era un buco hobbit. Vale a dire, comodo. Aveva una porta perfettamente rotonda, come un oblò, dipinta di verde e con un lucido pomello d'ottone, proprio nel mezzo. La porta si apriva su un ingresso a forma di tubo, simile ad un tunnel. Un tunnel molto confortevole, senza fumo, con pareti rivestite di legno e pavimento di piastrelle ricoperto di tappeti. Provvisto di sedie lucidate e di un gran numero di attaccapanni per i cappelli e cappotti. L'hobbit amava ricevere visite. Il tunnel lungo e tortuoso penetrava abbondantemente, anche se non in fondo, nel fianco della collina. E molte porticine rotonde si aprivano su di esso, prima da un lato e poi dall'altro. Per l'hobbit, niente piani superiori, le stanze da letto, i bagni, le cantine, le dispense, assai numerose. I guardaroba ce n'erano intere camere destinate agli abiti. Le cucine e le sale da pranzo erano tutti sullo stesso piano, anzi, sullo stesso corridoio. Le stanze migliori erano tutte quelle sul lato sinistro, entrando. Perché erano le uniche ad avere finestre, finestre rotonde e profondamente incassate, che davano sul suo giardino e più in là sui campi che digradavano verso il fiume. L'hobbit di cui parliamo era un hobbit alquanto agiato. Il suo nome era Baggins. I Baggins vivevano nel circondario della collina da tempi immemorabili e la gente li considerava assai rispettabili. Non solo perché molti di loro erano ricchi, ma anche perché non avevano mai avuto né avventure né fatto niente di imprevedibile. Si poteva presupporre l'opinione di un Baggins su un argomento qualsiasi senza darsi la pena di chiedergliela. Questa è la storia di come un Baggins ebbe un'avventura e si ritrovò a fare e dire cose del tutto imprevedibili. Può anche aver perso il rispetto del vicinato, ma guadagnò... Beh... Beh, vedrete voi stessi se alla fine guadagnò qualcosa. La madre di questo particolare Hobbit? Ma... ma cos'è un Hobbit? Immagino che oggigiorno gli Hobbit vadano in qualche modo descritti, visto che sono diventati rari e timorosi della gente grossa, come ci chiamano loro. Gli Hobbit sono, o erano, gente piccola, alta all'incirca la metà di noi e più bassa dei barbutinani. Gli Hobbit non hanno barba. In loro c'è poco o niente di magico, a parte quella magia di tipo comune e quotidiano che li aiuta a sparire silenziosi e rapidi quando persone ingombranti e stupide come me e voi gli capitano intorno. Con un rumore da elefante che essi sono in grado di sentire a un miglio di distanza. Tendono a metter su un po' di pancia. Vestono di colori vivaci, soprattutto verde e giallo. Non portano scarpe perché i loro piedi sviluppano piante naturalmente coriacee, nonché una fitta e calda peluria castana simile alla roba che hanno in testa. Che è riccioluta, eh? Hanno lunghe dita abili e scure, facce gioviali e le loro risate sono profonde e pastose, soprattutto dopo il pranzo, che consumano due volte al giorno quando ci riescono. Adesso ne sapete abbastanza per proseguire. Come dicevo, la madre di questo Hobbit, cioè Bilbo Baggins, era la famosa bella donna Tuk, una delle tre notevoli figlie del vecchio Tuk, capo degli Hobbit, che vivevano al di là dell'acqua, ossia il piccolo fiume che scorreva ai piedi della collina. Si diceva spesso, in altre famiglie, che in tempi remoti uno degli antenati dei Tuk dovesse aver preso in moglie una fata. Ovviamente era un'idea assurda, ma c'era non di meno qualcosa di non del tutto Hobbit in loro e di tanto in tanto qualche membro del clan Tuk si metteva in cammino e andava a caccia di avventure. Si dileguava con discrezione e la famiglia metteva tutto a tacere, ma restava il fatto che i Tuk non fossero rispettabili come i Peckins, pur essendo indubbiamente più ricchi. Non che bella donna Tuk avesse mai avuto una qualsivoglia avventura dopo aver sposato Bungo Baggins. Bungo, il padre di Bilbo, aveva costruito per lei e in parte col denaro di lei il più lussuoso buco Hobbit che si potesse trovare sotto la collina o sopra la collina o al di là dell'acqua e lì erano rimasti sino alla fine dei loro giorni. È tuttavia probabile che Bilbo, che era il loro unico figlio, pur avendo rispetto e modi identici ad una seconda edizione del solido e tranquillo genitore, avesse irritato dalla parte Tuk qualcosa di strano nella sua natura, qualcosa che aspettava solo l'occasione buona per manifestarsi. L'occasione buona non arrivò prima che Bilbo Baggins fosse adulto, quando aveva all'incirca 50 anni e viveva nel buco da Hobbit costruito dal suo padre. Quello che vi ho appena descritto insomma e sembrava essersi sistemato per sempre. Per un caso curioso, un mattino di molto tempo fa nella quiete del mondo, quando c'erano meno rumore e più verde e gli Hobbit erano ancora numerosi e prosperi e Bilbo Baggins indugiava sulla soglia dopo colazione fumando un'enorme pipa di legno che gli arrivava fin quasi alle lanose dita dei piedi, accuratamente spazzolate. ecco arrivare Gandalf Gandalf se aveste sentito su di lui solo un quarto di quello che ho sentito io e anch'io ho sentito ben poco di tutto quello che c'è da sentire vi aspettereste subito una qualche storia fuori dal comune. Storie e avventure spuntano da ogni lato ovunque gli andasse ed è il tipo più straordinario. Era da tantissimo tempo che Gandalf non si addentrava sotto la collina, per l'esattezza da quando era morto il suo amico vecchio Tuck e gli Hobbit avevano quasi dimenticato il suo aspetto. Era andato oltre la collina e al di là dell'acqua per certi suoi affari quando loro erano ancora piccini e piccoli Hobbit. Tutto quello che l'ignaro Bilbo vide quel mattino fu un vecchio con un bastone. Aveva un alto cappello blu a punta, un lungo mantello grigio, una sciarpa argente assopra la quale la sua lunga barba bianca penzolava fin sotto la vita e immensi stivali neri. Buongiorno disse Bilbo e lo pensava davvero. Il sole brillava e l'erba era bellissima. Ma Gandalf lo guardò da sotto le lunghe sopracciglia riusciute ancora più sporgenti dell'attesa del suo cappello. Cosa vuoi dire? disse. Mi auguri un buongiorno o vuoi dire che è un buongiorno che mi piaccia o no? O che quest'oggi ti senti buono? O che è un giorno in cui si deve essere buoni? Beh, queste quattro cose insieme disse Bilbo. È per di più un bellissimo giorno per una pipata all'aperto. Se avete una pipa con voi sedetevi e prendete un po' del mio tabacco. Non c'è fretta. Abbiamo tutto il giorno davanti a noi. E Bilbo si sedette su un sedile accanto alla porta, incrociò le gambe e fece un bell'anello di fumo grigio che si levò in aria senza rompersi e si diresse sopra la collina. Oh, che bello! disse Gandalf. Ma stamattina non ho tempo di fare anelli di fumo. Cerco qualcuno con cui condividere un'avventura che sto organizzando ed è molto difficile trovarlo. Lo credo bene da queste parti. Noi siamo gente tranquilla e alla buona. Non sappiamo a che farcene delle avventure. Sono cose brutte, fastidiose e scomode. Ah, fanno fa tardi a casa. Non riesco a capire cosa ci trovi di bello. Disse il nostro signor Beckins e infilati i pollici sotto le bretelle fece un altro anello di fumo ancora più grande. Poi tirò fuori la posta del mattino e cominciò a leggerla fingendo di ignorare completamente il vecchio. Aveva deciso che non era proprio il suo tipo e voleva che se ne andasse ma il vecchio non si mosse. Stava fermo appoggiato al suo bastone fissando lo Hobbit senza dire niente finché Bilbo si sentì a disagio e un po' seccato disse Buongiorno! Disse alla fine non vogliamo nessuna avventura qui grazie a tante potete tentare non lo so sopra la collina o al di là dell'acqua con ciò voleva dire che la conversazione era conclusa. Quel tuo buongiorno lo usi per un sacco di cose disse Gandalf adesso vuoi dire che ti vuoi sbarazzare di me e che il giorno non sarà buono finché non me ne sarò andato? Ma che ma che caro signore vediamo un po' non credo di conoscere il vostro nome ma sì ma sì caro signore e io il tuo lo conosco signor Bilbo Baggins e tu anche il mio lo conosci anche se non ricordi che sono io a portarlo io sono Gandalf e Gandalf significa me non avrei mai immaginato di ritrovarmi buongiornato dal figlio di belladonna Tuk come se fossi un venditore ambulante di bottoni Gandalf Gandalf che mi venga un colpo lo stregone vagabondo che diede al vecchio Tuk un paio di magici gemelli di diamanti che si attaccavano da sé e non si staccavano finché non glielo si ordinava il tipo che alle feste raccontava storie meravigliose con draghi orchi giganti salvataggi di principesse e inattese fortune di figli di ogni dove l'uomo che sapeva fabbricare quei fantastici fuochi d'artificio quelli sì che me li ricordo ah il vecchio Tuk li faceva alla vigilia di mezza estate splendidi salivano come enormi gigli bocche di leone e ginestre di fuoco e rimanevano sospesi nel crepuscolo per tutta la sera vi sarete accorti che il signor Baggins non era poi così prosaico come amava credere e che inoltre era molto amante dei fiori che mi colga un fulmine continuò sei proprio il Gandalf che spinse tanti bravi ragazzi e ragazze a partire per l'ignoto in cerca di pazze avventure qualunque cosa all'arrampicarsi sugli alberi al visitare gli elfi o andare per nave e far vela per altri lidi che il cielo mi perdoni la vita era proprio interessanti voglio dire un tempo avevi l'abitudine di mettere tutto sotto sopra da queste parti ti chiedo scusa ma non avevo idea che fossi ancora in affari e che cos'altro dovrei fare disse lo stregone ma sono contento lo stesso di vedere che ricordi qualcosa di me sei gentile a ricordare almeno i miei fuochi d'artificio e questo mi fa sperare bene sì certo per amore del tuo vecchio nonno Tuck e per amore della povera bella donna ti darò quello che mi hai chiesto perdonami ma io non ho chiesto niente e invece sì per ben due volte ti perdono anzi farò di più ti darò una bella parte in questa avventura molto divertente per me e ottima per te e anche proficua probabilmente beh se riuscirai a venirne fuori no no signore io io non voglio nessuna avventura grazie non oggi buongiorno però vieni pure domani a prendere il tè quando ti pare perché non domani vieni domani arrivederci detto questo lo hobbit si girò svegnandosela per la verde porta rotonda e chiudendola appena pote farlo senza apparire maleducato in fondo gli stregoni sono sempre stregoni come mi è venuto in mente di invitarlo a prendere il tè disse tra sé se andando in dispensa aveva appena fatto colazione ma pensò che una torta o due e un bicchierino gli avrebbero fatto bene dopo lo spavento frattanto Gandalf era rimasto davanti alla porta ridendo di cuore ma senza far rumore dopo un po' si mosse e con la punta del suo bastone tracciò uno strano segno sul bel portoncino verde dello hobbit poi si allontanò a grandi passi e più o meno Bilbo finiva la sua seconda torta e cominciava a pensare che era stato molto abile nell'evitare le avventure il giorno dopo Bilbo aveva quasi dimenticato Gandalf non era bravo a ricordare le cose a meno che non se le annotasse sulla lavagnetta dove segnava gli appuntamenti più o meno così Gandalf te mercoledì ma quel giorno era stato troppo agitato per poter fare qualcosa del genere proprio un istante prima dell'ora del tè il campanello della porta suonò furiosamente e allora Bilbo ricordò corse a metter sulla cucuma e l'acqua e tirò fuori un'altra tazza e un piattino una torta o due non si sa mai e corse alla porta stava per dire mi dispiace tanto di averti fatto aspettare quando vide che non era affatto Gandalf e un'altra tazza un'altra tazza